A Cantu ho avuto come allenatore sia Trinchieri che Sacripanti, sono due coach diversi, c'è differenza tra i due sistemi di gioco. Sacripanti per me è un coach player, nel senso che lascia i suoi giocatori tirare fuori il loro talento e la loro creatività, mentre Trinchieri vuole che si rispetti maggiormente un sistema di gioco. Il mio ritorno in Italia senza dubbio dipende dalla presenza di Sacripanti, avevo voglia di ritornare a giocare in Serie A in un posto tranquillo come Avellino, a Cantu le cose sono andate bene con Sacripanti e con lui voglio riprovarci di nuovo. E' un gruppo ricco di giocatori esperti, negli anni passati li ho visto spesso giocare. Sfrutteremo queste ultime tre settimane per diventare più squadre e farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Il mio contributo sarà quello di sempre, voglio essere parte del team e tenere insieme la squadra. Negli Stati Uniti diciamo glue guy, ovvero il collante della squadra per ottenere il successo. Obiettivo? Vogliamo essere tra le prime quattro squadre del campionato. Ogni anno il mio obiettivo personale è quello di arrivare ai playoff e farò lo stesso quest'anno anche qui ad Avellino.